Cioè è bellissimo, sembra che io stia toccando burro d'arachidi per davvero, guardate qua che bello, mamma mia, cioè è stupendo, è la perfezione, cioè io non posso non metterlo Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video, come state? Spero tutto bene, come avete passato questa vostra giornata? Spero bene Buon 31 dicembre, oggi è l'ultimo giorno del 2020 e direi anche finalmente e meno male Oggi, in questo ultimo giorno del 2020, vi mostro, come vi ho detto anche nel video della mia collezione slime dal 2018 al 2020, che vi lascio nella i delle info, sta qua sopra Vi mostrerò i miei slime preferiti di questo 2020, tutto quest'anno Ora non so se ci sono alcuni che ho comprato anche nello scorso anno, sia nel 2018, ma non credo Prima di iniziare questo video, fatemi sapere cosa farete stasera, dove lo passerete questo capodanno e cosa mangerete prima di tutto A proposito di cibo, fatemi sapere cosa scegliete tra queste due pietanze, destra o sinistra, fatemelo sapere giù nei commenti Poi, ad oggi, ovviamente, mi farete sapere qual è la vostra classifica dei miei slime Ora ve li mostro, vi dico la mia, ma voi fatemi sapere anche la vostra Il decimo posto degli slime che mi piacciono di più è questo Allora, io vi metto anche un po' qui il microfonino, così vi faccio anche un po' di smrrmr E vi faccio sentire Allora, lo slime è questo Mi piace perché è molto particolare, anche se è jiggly Non so se ve l'ho detto, anche nello scorso video, ma è uno dei miei jiggly preferiti Perché non si appiccica le mani, è molto profumato, nonostante io ce l'abbia da veramente un anno, a quanto pare Però è ancora molto elastico, trasparente ed è super super bello, jiggly mi piace Quindi questo è lo slime, che è questo qua, Sweet Sensation Fruit Scent Della Mark Orb Slimey Si merita il mio decimo posto Diciamo che adesso è un po' difficile Allora, il nono posto, secondo me, se lo meritano questi due slime E anche quell'altro che Daniele ha utilizzato per i suoi video dove abbiamo trasformato lo slime Vabbè Questo, di questa marca qui, Yummers Slime Alla maggior parte, tutti, sono slime ovviamente, americani E vabbè Questo qua, che è il peanut butter e il cioccoloco Ve lo dissi già anche l'altra volta Sono degli slime food Che secondo me si meritano tantissimo questo posto, il nono posto Metto al nono posto questo slime, questi slime Perché sono belli, mi piacciono, li adoro Secondo me sono gli slime food più riusciti di tutti Però tendono un pochettino a spezzarsi Ma la cosa che mi piace di più di questi slime è proprio il loro profumo Perché è proprio intenso, molto molto bello Ma questo, ragazzi, al burro d'arachidi Oddio Sembra davvero burro d'arachidi da spalmare sul pane Cioè, è bellissimo Sembra che io stia toccando burro d'arachidi per davvero Guardate qua che bello Poi mi fate sapere, alla fine magari, di questo video Secondo voi se la mia classifica è giusta oppure no Oppure se avreste cambiato qualche posto Poi L'ottavo posto se lo merita Questo Che è sempre uno slime food In realtà un po' rovinato col tempo Perché sta insieme a tutti gli altri slime Ed è sempre della Orb Slime Ed è il Flaffuccino Ve lo dissi già tempo fa Che era uno dei miei slime preferiti Super profumato, super cremoso Era uno slime doppio livello Guardate qua quanto è glossy Ma quanto è fluffy più che altro Cioè Ragazzi, sembra Cioè, non lo so È buonissimo Cioè, mi viene quasi da mangiarlo Rispetto anche agli altri due di prima Questo ha un odore molto più intenso Ed è molto più elastico e morbido Ora c'è la parte più difficile Però Cerchiamo di farcela Allora Metto al settimo posto Questo slime qua Lo so È stato difficile Perché questo è uno tra i miei slime preferiti Della Nickelodeon Però ce ne sono altri Cioè, ce n'è un altro Insieme a tutta la saga Insomma Che Sono i miei preferiti Allora, vediamo questo Anche se sotto è un po' strano Allora Anche se si è un po' Diciamo Scioltino Ma neanche tanto, eh Questo resterà uno tra i miei preferiti Ragazzi Della Nickelodeon Perché è profumatissimo Che Ve lo giuro È Stra Glossy Stra Fluffy Ed è stra Morbido ed elastico Guardate Però Lo metto a questo posto qui Perché ci sono degli altri slime Che mi piacciono di più Poi Al sesto posto Vi dirò Sono combattuta anche qui Però Vi metto questo Che è sempre uno slime della Play Doh Lo sapete che Cioè Sono scioccata Perché Gli slime della Play Doh Sono diventati i miei preferiti Hanno fatto degli slime Veramente molto molto belli Ehm Quindi Secondo me Ci stanno tutti In questa classifica Allora Questo è un Come dice lui Cloud Slime Ma in realtà non è un cloud È un creamy Butter slime Che a mio avviso È il più bello Di tutti Cioè Questo slime Sembra proprio fatto in casa Perché È come se avesse Lo slime all'interno Ma con la clay Della Play Doh Quindi È davvero fatto bene Poi Di questo rosa Spettacolare Cioè Guardate raga Cioè Di cosa stiamo parlando Metto al quinto posto Questo Sempre della Play Doh Ecco perché Play Doh Predomina ragazzi Sempre della Play Doh Che è questo Che è il Crackle slime Ed è un crunchy Ragazzi Ma di cosa Stiamo parlando Cioè È super clear Mamma mia Cioè È stupendo Ci sono Tutte queste Tutte queste palline All'interno Che rendono lo slime Striper mega crunchy Ed è Mamma mia Elastico Sembra Cioè Sentite Sembra Fatto in casa Anche quest'ultimo Quindi Cioè Vedete il mio combattimento Perché cos'è È impossibile Scegliere tra Il sesto E il quinto posto Comunque questo Secondo me Se lo merita tutto Perché a mio avviso Che Gli slime crunchy Che sono i miei preferiti Ci sta Ora arriva la parte difficile Perché ci sono Gli ultimi Quattro slime Ma vi dirò Allora Metto Al Quarto posto Un altro slime Della Play Doh Perché Ragazzi Ci sta Questo qua È un altro Slime crunchy Però Ancora Più Bello Rispetto agli altri Che ho aperto Adesso Ed è Se non l'avete visto Uno degli ultimi Slime Che mi sono arrivati Dall'America Che è questo qua Non c'è scritto Ma ho la confezione Quello Ai cereali Erano tre slime Diversi Con tre cereali Differenti Bellissimo Raga Questo qua È super morbido Super crunchy Super elastico Sembra Una base americana Fatta in casa Purtroppo Anche se lo slime Non profuma Purtroppo Anche se lo slime Non profuma Però È tra i miei preferiti Perché È Con base americana Sembra È crunchy Perché all'interno Ci sono Questi cereali Finti Quindi per me È Perfetto Adesso Podio 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 Allora Sul podio Al terzo posto Troviamo Lo slime Della Elmers Lo so Vi ho scioccati? Credevate che fosse Al primo posto? No Diciamo che Non tutti gli slime Della Elmers Mi piacciono Solo alcuni Quindi Questo Si merita Il terzo posto Perché È Stramorbido Straprofumato Ragazzi Questo Slime Mi ricorda Tantissimo La mia infanzia Non so perché Ma mi ricorda Tanto Tanto La mia infanzia Mi piace un botto È stra Iper mega elastico Guardate qua Quanto Quanto S'allunga Ed è Stra Clear Poi ha Un profumo Di Dolce Mi ricorda Quando mia mamma Faceva i dolci Quando io ero Piccola Poi è Strasquiscioso Stramorbido Secondo me Il terzo posto Se lo merita Tutto Purtroppo Non tutti Gli slime Della Elmers Si meritano Il podio Questo Come anche Altri Tipo quello Clear Che vi feci Vedere Tanto tempo Fa Magari Vi metto Il video Qui Nella I delle Info Mamma mia Che buono E anche Altri slime Secondo me Si meritano Il podio Raga Guardate Qua Quanto è Bello Cioè Dai Se lo merita Tutto Il terzo Posto Dite la verità Ora Secondo posto Ragazzi Se lo merita Questi slime Qua Gli slime Della nickelodeon Ma non solo questo Sia questo qui Cupcake Sia quell'altro lì Milkshake Che vi feci vedere In un altro video Secondo me Sono stra Iper mega belli Sia per la loro confezione Sia per lo slime Che troviamo All'interno Che è uno slime Che ora vi faccio vedere È stra glossy Stra profumato Anche se sembra profumato Di borotalco Ma è un borotalco Molto dolce E Anche crunchy Perché all'interno Troviamo tutte queste perline Per simulare Gli sprinkles Secondo me Raga È uno degli slime Più riusciti Ma proprio tantissimo Della nickelodeon Lo so C'era anche questo Ma questo Lo adoro di più Perché Non si è sciolto Ed è rimasto intatto Poi raga È glossissimo Come se non ci fosse Un domani Guardate qua Che bello Cioè Raga Raga Guardate qua Che bullo enorme Oh my god Bellissimo Sentite Ora al primo posto Lo so Vi sconvolgerete Ma già l'avete visto qui Non è uno slime comprato Cioè non è uno slime Fatto in fabbrica Ma è uno slime Fatto in casa Quindi comprato Da un sito americano Non comprato Da Amazon Insomma Ed è questo Di Carina Garzia Al primo posto Lo so Non è uno slime Comprato da Amazon Però ragazzi Secondo me Questo è lo slime Più bello Del mio 2020 Perché è uno slime Che io sognavo Di avere da tanto Ce l'ho fatto A comprarlo Questo è stato fatto Dal marito Di Carina Garzia E Carina Garzia In persona Voi lo sapete Quanto io Adoro Di Carina Garzia E la seguo Come youtuber Da tanti tanti anni È una delle poche persone Che ho seguito Da anni Da sempre E stimo come youtuber Perché è riuscita A crearsi Un lavoro Facendo slime E ho cercato Di fare anche io La stessa cosa Come lei Quindi Questo per me È lo slime Più bello Del 2020 Perché è È la perfezione Cioè io non posso Non metterlo Poi magari Nell'anno nuovo Nel 2021 Vi farò anche La mia classifica Degli slime Comprati Dagli shop americani Che mi piacciono di più O che ho La collezione Insomma Questo è il più bello Di tutti ragazzi C'è dopo mesi 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 È ancora intatto Ha ancora un profumo Che me lo mangerei Come se non ci fosse un domani E lo slime si chiama Capitan Crunch Milkshake Ha una base Che penso La perfezione Più totale Cioè Tocchiamo proprio Il paradiso Insomma Ed è Cioè Bellissimo E niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia reallegrato Questa giornata Questo ultimo giorno Del 2020 E niente Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Io vi voglio tanto bene Vi mando un bacione Ed un abbraccio E noi come sempre Ci vediamo Domani Nel primo gennaio 2021 Con un nuovissimo video Alle ore 14 e 30 Bye